Cappi al collo in solidarietà con coloro che in Iran sono stati condannati a morte. A Teheran i tribunali del regime hanno sentenziato per l'uccisione di una decina di persone. La loro colpa, recitano le carte, è di cospirare contro l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale in cento città del mondo, fra cui Firenze. Donne e uomini iraniani sono scesi ancora una volta in piazza per manifestare e difendere i diritti umani che sono negati nel loro paese che in questa guerra di indipendenza sta vivendo ancora di più la repressione. Noi non vogliamo solamente libertà o scelta per mettere hijab o non mettere. Non vogliamo più il regime islamico. Non vogliamo. E questo lo diciamo a alta voce. E vogliamo che il paese europeo finiscono solamente a parlare e scendono ai fatti. Sono passati 70 giorni, sono morti più di 400 giovani, come dicevo, in cui 50 bambini. L'ambasciatore iraniano non è stato nemmeno convocato per una volta, per chiedere almeno una semplice domanda. Cosa sta succedendo in Iran? Tutto è cominciato con l'uccisione di Majamini, perché non indossava il velo come avrebbe dovuto. Quella è stata la scintilla per un popolo che vuole la libertà. A Firenze il corteo è iniziato in piazza Santa Maria Novella ed è terminato in Santissima Annunziata. Hanno sfilato bandiere dell'Iran e cartelli in memoria di chi è stato ucciso, come è successo a tanti minori, e urla di rabbia e dolore che loro, sono convinti, arriveranno fino a Teheran.